Incapaci di spendere 30 miliardi di fondi europei che rischiano ormai seriamente di dover essere restituiti. Questo l'affondo alla politica siciliana che arriva dall'alto dalla viva voce del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizione, intervenuto al primo incontro dell'Expo dei distretti agroalimentari a Palazzo dei Normanni dal titolo Blue Sea Land. Ardizione ha parlato di fallimento inequivocabile, dichiarandosi in linea con la necessità di creare un'agenzia nazionale per la gestione dei fondi comunitari. Fondi che l'Unione Europea adesso riaverrà indietro, lasciando irrisolte diverse criticità siciliane abbandonate a se stesse. Non fa eccezione il settore agroalimentare, vero soggetto a cui si rivolge la Blue Economy, presentata a margine proprio di questo Blue Sea Land. Col supporto della regione siciliana e il distretto produttivo della pesca, si sono illustrate le caratteristiche di un nuovo modello produttivo, rivorto alle piccole e micro imprese. La Blue Economy va oltre la green perché impone il concetto di restauro, di ricostruzione, di responsabilità dell'ambiente, ma anche di ricostruzione e di restauro dei principi che attengono all'organizzazione del lavoro, alla sicurezza alimentare. Questo Mediterraneo che spesso fa cronaca solo e esclusivamente per le trissi vicende è invece un mare dove lo sviluppo di fertili relazioni tra i vari popoli possono dare sicuramente un grande impulso all'economia dell'isola e all'economia di tutti i popoli del soffice al Mediterraneo.